Ciao Dracula e bentornati in questo nuovo video Oggi anche, allora, i video di Minecraft del mio rifugio e la casa l'ho cancellato perché non riprendeva nessuna storia Infatti volevo fare una storia con voi, quindi apremo Minecraft Volevo fare proprio una storia con voi Quindi iniziamo Penso che il dispositivo si muove No, lo chiameremo Let's play Sopravvivenza, difficoltà normale Nell'ultimo normale No, scusate Trucchi, no Tipo di mondo infinito Cria Vediamo come se ci appare Vediamo Bene, siamo su una piccola isoletta È già mattina Ci sono delle pecore, il che è buono Quindi possiamo farci un bel letto Sono tanti animali qui E lo guasto Ok, il primo cubetto di lana è nostro Qui vedo che c'è una caverna Nel che può essere buono o cattivo Nel senso Ce ne sono due di caverne qua Buono, buono C'è il carbone Vedete il carbone ragazzi Quante caverne ci sono qua È un buon segno Tanto Vediamo i primi alberi Che mondo si sta generando Perfetto Abbiamo un'altra pecorella Piccola piccola Vieni qua Ok, abbiamo anche da mangiare Che è buono Perfetto Adesso andiamo a spaccare un po' di legna Per poi fare I wood planks Ragazzi, spero che questa serie vi piaccia Se sì, lasciate like Minecraft uscirà solo giovedì Una volta alla settimana Tranquillo Spacchiamo Ok Cinque pezzi di legno Vieni qui Tu cosa vuoi fare? Devo raccoglierne un po' di più Allora Con questi Direi Possiamo farci Delle assi di quercia Possiamo farci un Crafting table Ok, perfetto Ok, perfetto Crafting table qua Con questo Possiamo farci Un attimo Un attimo Degli stick Con gli stick Possiamo far Una ascia Una spada Adesso Adesso Non mi resta più Quasi niente Ok Andiamo a prendere Altro legno Ok Qui l'abbiamo già preso Direi anche di non Lontanarci troppo Da Dall'isola Da dove mi ha spaccato Il primo albero Ecco qua Vi consiglio di andare a vedere Su youtube Minecraft Versus Serial live No Perché è bellissimo Ok Mi sa che abbiamo Quasi tutto Vediamo Se possiamo Allora Sposto la webcam Un attimo Ok Piccozza Perfetto E andiamo Spaccare Un po' Di pietre Allora Ragazzi Andiamo Prima che si faccia Notta Ovviamente Ok Mezzogiorno Sarebbe Mezzogiorno Poi con questi Mi faccio Anche Oh no Se la lava Non è un buon segno Anzi Invece Sì però Meglio non Caderci Prendiamo la roccia Ecco Prendiamo quella No quella è ghiaia Sì è ghiaia È ghiaia Cosa Cosa Vedo lì Un ragno Ah no Fiore C'è un'altra pietra Per me Per me Niente Non siamo sicuri Non c'è più pietra No Se no Non posso farmi Le armi in pietra E vabbè Me le tengo in legno Allora Dove ho piazzato Il craft in te No Non dire che mi son perso Allora Qui no Su una collina Tanto Eccolo là Perché ci sono le foglie Su la zanna Allora Faremo la nostra casa In legno Non di pietra Abbiamo Abbiamo abbastanza Stone bricks Per farci una spada Di pietra Di che non è male Sì dai Cominciamo a fare La nostra prima casa Diciamo qui C'è lo spazio Sì Proviamo Allora Uno Due Uno Due Uno Tre Sarà piccola Per quanto La grandizia Di questa collina Diciamo Qui finisce Quindi Andiamo Di fantasia Ok Ce ne Abbiamo Ancora Quattro Allora Uno Non proprio Lì Sai Scusa Se non mi riprendo Con la webcam Però Fare video Con Un telefono Che sia Il massimo Allora Abbiamo Finito Il legno Ma io Si faccio Così Sai Un'altra Pecora Tra l'erba Fitta Cercanzi Ah no Cos'hai Che brilli Tutta Sei Allora Possiamo farci Un letto Comunque Prendere Dell'altro Legno 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 Non Andrarti Troppo Si fa Stava Facendo Sera Cavoli Cavoli Cavolacci Quanto Posso Farmi Del legno Non Non Posso Farmelo Forza Che Ce la Fai Ce la Fai Ce la Fai Ce la Facciamo Ragazzi Ce la Facciamo Se no Moriremo Ce la Faremo Qui Nuova Eccolo Là Il legno Quanto Ci metteremo Cane Da Zucchero Lasciamolo Lì Per Eventuali Facendo Sera Forza Non voglio Morire Sicuramente Non voglio Morire Ok C'è Il legno Abbiamo Tanto Tanto Ok Forza Sì Va bene Ok Perfetto Adesso Quanti Ah Meglio Prima Tornare A casa Vai Ancora Lì La nostra Casetta Stiamo Registrando 10 Minuti Ok Uh Si sta Facendo Sera Da 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 che Ci sono I mob Forza Allora Mettiamo A posto Gli alberelli Ok Ne abbiamo 20 Guarda Guarda Qua Qua Ci fa Sera Ce Facciamo Introsera Raga Sì Ma Se Non Ci Blocchiamo Forse Ok Ok La porta È Fatta Quella Bloccherò Diciamo Bloccherò Non ce ne bastano Sicuramente Luna È Sorta Quasi Oh Cavoli Cavoli Che Succede Adesso Cos'è Quello Ragazzi Questa Era la Prima Parte Del Video Se Volete Che Esca La Seconda Parte Arriviamo A Dieci Like E Vi Metto La Seconda Parte Bella A Tutti Ragazzi Dal Vostro Dracola Tutto Prrr